La sicurezza di chi ami non è un gioco. Affidati a Difesa Plus. Difesa Plus è la linea completa di integratori che rende invincibile il tuo sistema immunitario, grazie a un mix di estratti vegetali, vitamine e minerali. La sua formula potenziata con vitamina D3 e micronutrienti ti protegge dalla minaccia costante di virus e batteri per tutto l'inverno. Difesa Plus. Uno di famiglia. Da Aristeia Farmaceutici.